oggi siamo venuti al parco canile di monza e con noi c'è napo e stefano ci racconta un po chi è napo napo è un cane corso di circa otto mesi quindi diventerà ancora più grande prevediamo che faccia anche più di 40 chili raggiunga ecco noi adesso lo vediamo tranquillo ci sembra molto tranquillo che genere di cane che cosa vuol dire anche avere un cane corso adottare un cane corso allora un cane molto impegnativo nel senso che già la stazza significa che bisogna essere in grado di tenerlo quando si porta fuori così via sono cani che se gestiti bene se educati bene in questa fase sono dei cani molto equilibrati se invece non vengono ben socializzati non stanno in mezzo alla gente adesso da grandi potrebbero dare più problemi appunto nel momento in cui vengono a contatto con persone che non fanno parte del loro nucleo o con cani che non conoscono quindi è qui al canile da quanto un mesetto circa lui qua al momento è andato d'accordo con tutte le persone con tutti gli altri cani però è importante che mantenga questo carattere e quindi fare tante esperienze positive come va a guinzaglio è molto bravo è vivace molto energico è ovvio che se vede qualche stimolo tenderà ad andargli contro è importante per questo improntare un buon rapporto col cane di modo che il cane ascolti il conduttore invece che decidere lui cosa fare quando tu parli di stimoli a me viene da immaginare che possono essere bambini o altri animali ecco in una nuova casa consiglio sempre mille occhi quando c'è cane bambino anche col chihuahua o qualunque cosa sempre stare attenti all'inizio perché il bambino ha un modo di fare particolare il cane deve imparare come leggerlo tra virgolette per gli altri animali non lo so onestamente eviterei con gatti perché potrebbero stimolare la sua voglia di giocare ricordiamo quindi Napo è giovane molto giovane diventerà ancora più grande quindi ha bisogno che ci sia una persona dietro di lui che lo riesce anche a tenere che possa gestirlo l'ideale qualcuno che abbia esperienza perché almeno sa come interpretare i segnali che dal cane e quindi anticipare i problemi che potrebbero esserci un'ultima domanda la sua stazza abbiamo detto diventerà ancora più importante in un appartamento come si può trovare potrebbe andare anche in appartamento se gli si assicurano le passeggiate soddisfacenti di modo che una volta a casa si riposa per adottare o avere ulteriori informazioni contattare il canile di Monza al numero 039 835 623 oppure mandare un'email a canile-enpamonza.it Grazie a tutti Grazie a tutti.